Monopoli non si ferma, Molfetta rallenta Taranto, tutto o quasi secondo gerarchie di classifica nella quattordicesima giornata del campionato di C-Gold, almeno nelle zone alte dove la capolista Action Now riesce alla lunga ad omare Monteroni a domicilio sull'81 a 67, 18 punti a testa per Manchisi e Bosniak, stesso Bottino per Zacchigna sull'altro fronte, successo esterno anche per palacanestro Molfetta, che interrompe l'imbattibilità casalinga di Cusionico per 92 a 82. Tarantini condizionati dalle non perfette condizioni di Capitan Grosso ed ha una falsa partenza che vede gli ospiti allungare subito con Bagdonavicius e Staselis, 42 punti complessivi alla fine. Il miglior marcatore è però Bricis che ne realizza 28 tra i rosso-blu locali, con Monopoli a 24 Molfetta che segue a 22, Taranto è agganciata a quota 18 da Lupalecce, vittoriosa a Vieste per 63-57 dopo un buon inizio dei garganici, positivi anche alla ripresa dopo l'intervallo. Difese spigolose con picchi di 19 punti per Monier e 17 per Ordine fra i locali e 17 per Cretanovic fra i Salentini. La copertina se la guadagna Franca Villa con il secondo successo stagionale, ottenuto ad Ostuni per 85-81 con una rimonta. Nell'ultimo periodo, menzione per l'Ebo, 26 punti e Murolo, 25, i realizzatori più prolifici della contesa. Con Altamura a Manfredonia, rinviata a fine mese, completa il quadro e il successo di Mola su Castellaneta per 82-77. Bene i Tarantini nella prima parte dell'incontro, poi meglio i padroni di casa che trovano più sbocchi offensivi su tutti. Copman con 18 punti, nel prossimo turno incroci molto interessanti a cominciare da Monopoli dove sarà di scena Taranto. Poi la classica Lecce-Ostuni e Molfetta che riceve Mola.